E' stata una settimana importante per la comunità di San Leone Magno a Bitonto che dal 7 al 10 novembre ha festeggiato il proprio santo con varie iniziative, culminate poi nella celebrazione del 10 pomeriggio presieduta da Don Gianni Giusto, vicario episcopale. Una parrocchia molto attiva per quelle che sono le iniziative e gli incontri, soprattutto appoggiati dalla spinta che padre Leonardo Civitavecchia, infondere i suoi fedeli per farli avvicinare il più possibile alla sua comunità. Sì, ci siamo preparati, ci stiamo preparando a questa festa solenne del santo patrono che è San Leone Magno, uno dei più grandi papi della storia, pensate soltanto nel 400 d.C., ma che è di grande impulso e di grande attualità ancora per oggi. Siamo fortunati ad avere un grande santo, lo abbiamo fatto con uno stile e possiamo dire tutto francescano, non folcloristico, ma nella preghiera. Abbiamo iniziato con giovedì con l'adorazione. Ieri un bel approfondimento, una bella catechesi di Don Francesco Armenti. Questa sera il mandato a tutti gli operatori pastori della parrocchia, dove appunto vogliamo dire proprio questo, che la comunità, la chiesa è come una famiglia. È quello che ci ha insegnato alla fine questo grande Papa. L'essere uniti a Cristo significa vorersi bene, amarsi e cercare di costruire un mondo più giusto e un mondo più bello. E allora lo stare insieme, al di là delle parole, è proprio il frutto, il risultato di questa bellezza dell'essere una grande famiglia nel nome di San Leone Magno. Abbiamo chiesto a padre Leonardo Civitavecchia che cosa vuol dire essere un operatore pastorale oggi, anche attraverso le parole di chi effettivamente lo vive in prima persona. Io dico sempre che non sono dei prediletti, non sono delle star, non sono niente di tutto questo, non sono nemmeno degli influencer, come il Papa stesso ha citato la Vergine Maria come l'influencer dei suoi tempi, con il suo sì. Sono dei testimoni. Se hanno avuto l'unico privilegio è quello di aver detto anche loro sì, come la Vergine Maria, è quello di impegnarsi a costruire un mondo più bello, ad essere testimone in tutti i campi di quelli che sono gli aspetti fondamentali, dalla liturgia alla catechesi, alla carità. La cosa bella è che io ho voluto inserire tra i chiamati di questa sera anche quelli che puliscono la chiesa, perché non è soltanto chi annuncia, il predicatore, l'annunciatore, l'evangelizzatore, ma anche quelle persone che con una sensibilità unica riescono a rendere il proprio servizio all'interno della chiesa, pulendo la chiesa, i locali della chiesa e a rendere pulita e bella la chiesa. Quindi sono degli inviati a cercare di rendere bella, soprattutto come, ecco, in riferimento al mondo, sempre più bella la chiesa di Dio, la nostra parrocchia. Questa festa è la festa della comunità, l'azione pastorale della chiesa ha bisogno della collaborazione di tutti, ognuno con il proprio carisma e noi stiamo qui a dire il nostro eccomi, per dire cioè che siamo pronti ad andare in giro per il mondo, diciamo, evangelizzando, cercando di portare il Vangelo agli altri. Padre Leonardo, naturalmente, ci tiene molto a questa festa perché ha insistito molto sul fatto che l'azione corale di tutti è quella che porta avanti la chiesa e l'azione pastorale. E la bellezza è proprio, ecco, la testimonianza. Vedere come il professor Vincenzo, attraverso non soltanto il passato, ma soprattutto l'oggi, il presente, ecco, è importante, è una presenza viva, è una presenza importante perché soltanto, non con le chiacchiere, ma soltanto con i fatti si può creare la comunità. Tra le tante iniziative intraprese dalla parrocchia di San Leone, Amati per Amare, o meglio, Amati per Amare, appuntamenti mensili per i giovani, per le famiglie e per gli adulti, che da novembre 2019 a giugno 2020, attraverso incontri di ascolto, catechesi e formazione, forniranno uno sguardo d'insieme per essere sempre più una chiesa giovane al passo con i tempi.